Figli miei, sono venuto a farvi gli auguri. Mi domanderete il perché, ve lo dico subito. Domani comincerà la primavera, quella bella stagione che porta nella natura una nuova vita e un rinnovamento totale. Ebbene, sia anche per voi l'inizio di un rinnovamento spirituale e religioso, così totale che se ne abbiano ad accorgere tutti coloro che vi avvicinano. Voi usate dire, quando passano gli anni, che passano le primavere. Io invece vi auguro che la vostra vita sia una primavera continuata, cioè un rinnovarsi continuo in Gesù Cristo, che è perenne giovinezza. Ed ora vi benedico e vi auguro una buona notte, figli miei. Con voi benedico le vostre intenzioni e tutto il vostro gruppo di preghiera, che desidero si propaghi e progredisca così da essere da modello a tutti. Ne avete la possibilità e il dovere. Poiché Gesù stesso e la sua mamma vi istruiscono e vi aiutano.